Incoraggianti dati da Covid-19 in città, 398 positivi per un totale di 5 in più nelle ultime 24 ore. Un boom di guariti, 70 in tutta la provincia, 28 a Caltanissetta. Eppure, seppur blando, c'è stato un aumento di ricoveri in terapia intensiva, 2 in malattie infettive, altre tanti, situazione diversa per altri paesi della provincia. Intanto continuano i controlli delle forze dell'ordine, soprattutto dinnanzi ai bar, dove pare che all'orario aperitivo si radunino persone intente a bere dinnanzi agli esercizi commerciali, atto ancora vietato, in zona arancione. Pare inoltre che ci sia stato il primo caso di contagio a scuola dopo il rientro alla Palmin-Telmi, una nunna positiva, due classi in quarantena, compreso ovviamente le maestre.